Musica Hey la gente, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo tornati su Clash of Clans con un nuovo episodio delle curiosità Da quando è uscito Dual Maxing c'è stato un po' di stop in questa serie Ma oggi rieccoci qua ragazzi Tra l'altro a proposito di Dual Maxing Nell'episodio precedente siccome ho fatto un fail in live Ho deciso che i primi due replay che vi mostro oggi in sottofondo al video Sono stati presi dall'account principale Ovviamente se vi siete persi il fail di cui sto parlando Vi lascio come al solito qua sopra la scheda cliccabile anche da telefono per rivedere il video Ma non divaghiamo ragazzi e partiamo subito con le curiosità di questo episodio Perché oggi tocca al drago che ci porta 8 curiosità che sono piuttosto interessanti Soprattutto quelle che vi lascio alla fine perché lo sapete, dolce sinfundo Curiosità numero 1 ragazzi L'aggiornamento del 1 luglio 2015 ha visto un po' di cambiamenti per questa truppa Infatti è stato aggiunto il drago di livello 5 È stato ridotto il costo della truppa stessa Ed è stato reso disponibile il drago di livello 4 per i TH9 O meglio se vogliamo essere precisi per i laboratori di livello 7 Curiosità numero 2 Restando sempre in tema aggiornamenti ragazzi Sapevate che il danno del drago è diventato splash oppure danno ad aria Chiamatelo come preferite solamente il 12 marzo del 2013 Infatti il danno del drago una volta era a obiettivo singolo Quindi teoricamente era più conveniente tirarlo giù con degli arcieri piuttosto che con dei maghi Ci sarebbe ancora una curiosità legata agli aggiornamenti sul drago Ma sono stronzo e ve la lascio alla fine perché è la mia preferita Curiosità numero 3 Quando abbiamo visto le curiosità sullo spaccamuro Ah se vi siete persi il video vi lascio la scheda qua sopra come sempre Avevo detto che lo spaccamuro appunto era una delle due truppe Che nella caserma viene raffigurata a un livello superiore da quello base Infatti lo spaccamuro è raffigurato a livello 3 o 4 Nella immagine di addestramento della caserma E la seconda truppa appunto è il drago ragazzi che viene raffigurato a livello 2 Ovviamente sottolineo che anche se voi avete il drago a livello 1 E lo provate ad addestrare viene visualizzato comunque a livello 2 Idem se ce l'avete a livello 3 o 4 è sempre a livello 2 nella caserma Curiosità numero 4 La prossima volta che utilizzate il drago in combattimento fate caso a una cosa Infatti la truppa quando è schierata in campo ha sotto di sé un'ombra Ebbene l'ombra del drago è molto più piccola di lui e soprattutto è ovale Non rispetta minimamente le sue forme Curiosità numero 5 Come sempre andiamo a vedere qual è il numero massimo di draghi che si possono utilizzare in un solo attacco Gli accampamenti maxati possono contenere fino a 12 draghi Mentre nel castello del clan maxato ne può contenere solo uno Ma questo discorso lo approfondiremo poi meglio a fine video Comunque il totale delle truppe ragazzi è di 13 draghi per un solo attacco Curiosità numero 6 A proposito di attacchi in full draghi ragazzi Il record del primo giocatore che ha superato la soglia delle 4000 coppe E' stato vinto da un certo George Yao Che come tecnica aveva proprio il full draghi Questo player infatti attaccava sempre e solamente con dei draghi Utilizzando come pozioni 4 incantesimi di tuono Che ovviamente venivano lanciati sulle difese aeree Per poterle distruggere e garantire il 50% sotto tutti gli attacchi Curiosità numero 7 Come scopriremo molto molto presto ragazzi Il drago è una delle uniche due truppe all'interno di clash of clans Che cambia il suo aspetto in ogni singolo livello Questo appunto perché ci sono truppe come i barbari e gli arcieri Che tengono lo stesso aspetto magari anche per due livelli Diciamo che il drago è anche tra le due truppe quella che cambia di più l'aspetto Infatti cambia completamente il colore Passa da verde a viola a marrone a rosso e a rosso infuocato praticamente Curiosità numero 8 La più grande curiosità sul drago che è anche appunto la mia preferita ragazzi E' di sicuro quella che riguarda l'aggiornamento del 23 maggio 2013 Infatti in questo aggiornamento l'aspetto del drago è cambiato di parecchio Per farvi capire meglio vi lascio un'immagine Ok ci sono vari dettagli ma la cosa che cambia principalmente è che prima non aveva le zampe anteriori A me sinceramente piace di più adesso il drago Però comunque sono curioso di sapere cosa ne pensate voi Quindi vi lascio qua un sondaggio per capire se vi piace di più il drago che c'è adesso o quello che c'era una volta Prima di salutarci ragazzi voglio aggiungere una sorta di nona curiosità Che in realtà è più un mio pensiero personale Ma voglio condividerlo con voi per capire se può aver senso o no Infatti voglio sottolineare che questa cosa non sta scritta da nessuna parte Col passare del tempo abbiamo visto l'aumentare di tantissime costruzioni su Clash of Clans Ma ce n'è una in particolare che è ferma da parecchio tempo al livello 6 Sto parlando ragazzi del castello del clan Ebbene secondo me il castello del clan livello 7 non è ancora stato introdotto dalla Supercell volutamente Supponiamo che esista un castello del clan livello 7 Se fosse appunto reale conterrebbe per forza 40 truppe Perché con l'aumentare dei livelli aumenta sempre di 5 in 5 Appunto proprio per colpa del drago secondo me non viene introdotto questo castello del clan livello 7 Perché la gente a quel punto potrebbe farsi donare due draghi per un solo attacco nel castello del clan Ed è inutile dirvelo sarebbe una cosa decisamente overpower e ne approfitterebbero in molti E quindi secondo me se il castello del clan non è ancora a livello 7 è per questo motivo qua ragazzi Per colpa dei draghi Fatemi sapere secondo voi se questa cosa può aver senso o no con un commento O semplicemente anche qua vi lascio un piccolo sondaggio Detto questo io come al solito vi ringrazio per tutto il supporto che mi date ogni giorno ragazzi Vi saluto e vi do appuntamento sempre domani, sempre alle 11 e sempre con un nuovo video Ragazzi io vi saluto, ciao a tutti Grazie a tutti